Ve l'avevamo detto che il barometro di San Lazzaro segna tempesta su tutto il territorio? Ebbene, dopo i tuoni del PD che per voce del segretario cittadino accusava l'assessore all'urbanistica Andrea Viero di non voler prendere posizione sul tema, arrivano adesso i fulmini dell'amministrazione cittadina. Il segretario Tasca, ormai lo conosciamo, sul tema è un disco rotto, ma io ho la pazienza di ripetere le cose anche cento volte. L'ho già detto, c'è una parte tecnica che prevede appunto la procedura della conferenza di servizi dove i tecnici hanno il compito di esprimere un parere dal punto di vista tecnico e poi ovviamente c'è la parte politica che ha l'obbligo e l'onere di fare delle scelte. Per Viero la politica adesso deve rimanere fuori dal faldone di San Lazzaro perché il tempo del Consiglio Comunale arriverà poi. La politica non può entrare, non può fare dell'ingerenza rispetto a quello che è il parere tecnico. Questo Tasca non vuole capirlo, continua a creare polemica quando non è il caso. Gli uffici stanno lavorando, la conferenza dei servizi si concluderà e poi avremo modo di confrontarci in Commissione Consigliare e poi anche in Consiglio Comunale. Insomma la partita non finisce qui e la polemica, visti i tempi del percorso legato a San Lazzaro, è destinata a infiammarsi ancora. Spiace anche poi capire che Tasca è un po' sconnesso rispetto invece a quello che è il rapporto che c'è in amministrazione comunale, soprattutto su tematiche così delicate che prevedono un confronto con la città, ma soprattutto tra consiglieri. Io personalmente ho un ottimo rapporto con le minoranze, ci sono appunto confronti sulle varie tematiche della città, soprattutto sui temi urbanistici. Non capisco perché Tasca debba sempre accendere fuochi quando non serve.